ciao a tutte ragazze benvenute in un nuovo video nella rubrica in collaborazione con marina snail che saluto in questo video abbiamo pensato di ricreare un pochino l'idea di hello kitty e niente la nail art è questa spero vi piaccia e vi faccio vedere cosa utilizzato per questa nail art e poi vi lascio al video tutorial allora come base ho utilizzato questa qua ultra long della kiko poi ho utilizzato rosa shine tech della debora numero 41 un giallo lasting color matt matt della della pupa numero 001 il solito nero preta porter della devora milano numero 71 un bianco numero 953 e un top coat effetto glossy questo qui a e anche un uno strass per il fiocchettino poi ho utilizzato vari dotter per la punta sia fine e anche quella un po più spessa ecco questo è tutto vi lascio il video tutorial mi raccomando pollice su se il video vi piace potete lasciare anche dei commenti e niente mi mando un grossissimo bacio come vedete ho già steso una passata di di base protettiva adesso con il rosa vado e adesso vado stendere rosa monocolore su tutte le unghie tranne sul medio dove andrò a fare il faccino di hello kitty ok invece sul medio andrò a fare un french bianco quando il bianco si è un pochino asciugato vado a fare con un dotter dal punta sottile so che non uso i pennelli giusti ma devo cambiarli quindi nel frattempo in qualche modo faccio prendo il dotter dalla punta sottile con la più fine che c'è e con il rosa andrò a disegnare a ricreare un piccolo fiocchetto forse quindi faccio due triangolini che formano un fiocchetto e aspetto che anche questo qua asciughi nel frattempo che il bianco è un pochino asciutto vado a fare prendo un giallo io uso questo qui opaco perché ho un altro giallo ma ce l'ho soltanto fluo quindi prendo questo qui matte e poi comunque alla fine quando darò la passata dei top coat effetto glossy farà l'effetto glossy anche l'opaco con il giallo vado a prendere sempre un dotter con la punta sottile e faccio un nasino una lineettina dritta così poi con il nero prendo un dotter con la punta un po' più spessa che in teoria me l'ero preparato ma eccolo qui questo qua e con il nero andrò a fare gli occhietti quindi faccio proprio due puntini qui così così poi ancora con il dotter appunto con la più sottile ovviamente chi ha un pennello magari che fa per i tratti per i tratti va meglio con questo qua andremo a fare invece i baffi ecco magari non così spessi come li ho fatti io ecco perché ho sbagliato punta che hanno così comunque sono lo stesso troppo spessi ma comunque vado a dare l'idea di due baffi dopo di che con un dotter appunta abbastanza grossa prendo il bianco e vado a fare del po' un po' in giro non importa se i po' sono di diverse dimensioni il penultimo passaggio è quello di applicare un brillantino in mezzo al fiocchetto prima però applico un pochino di di top coat per per fissarlo eccolo qui vado ad applicarlo in mezzo così una volta che è tutto asciutto passo il mio top coat la nail art è terminata spero vi piaccia lasciatemi qualche commento qualche like se vi piace se avete dei suggerimenti e se provate a ricrearla potete anche taggarmi su instagram mi trovate come veroneilart semi permanente magari vi lascio il link nell'info box e niente fatemi sapere cosa ne pensate e vi lascerò anche il link del canale di Marina Snail così guardate anche il suo video se vi va e se volete potete anche seguirla vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao